buongiorno a tutti belli ai brutti si rientra a lavorare buongiorno carissimi e che dire che dire è finita la settimana di ferie adesso si fa lavorare ancora adesso è gradevole speriamo che non arriva il bonita spiritica del bestiale e che dire piaga una buona giornata buon lavoro a tutti voi mi raccomando beati voi che siete in ferie buon riposo sono stanco vorremmo andare nel letto a dormire ma non si può boh meno male sono uscito io ho preso anche l'attrezzatura che devo farmi le misure a teori e che dire altro forte coraggio adesso vado a lavorare sono qua alla fermata come prima messaggio le foto amici buon lunedì unica settimana a tutti a presto bacio a tutti e tutte la persona nel mio cuore e tutte le altre persone che mi conosco per rifare la lista lunga fine domani mattina po amici vi auguro una buona giornata buon lavoro e che dire altro forte coraggio anima avanti ciao a tutti alla prossima ciao iscrivetevi mi raccomando ciao